Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Vinci. Per partecipare all'iniziativa lanciata dal Teatro Machiavelli, Ninima, Remedia e Tziucunda, ho scelto di presentare uno dei miei romanzi preferiti, L'amore ai tempi del colera, di Gabriel Garce Marquez. Il romanzo racconta la storia di Florentina Riza, che per oltre mezzo secolo, esattamente per 53 anni, 7 mesi e 11 giorni, lo aspetterà per poter conquistare la donna amata e trascorrere con lei il resto della vita. Qui leggo un frammento. Florentina Riza si era prefigurato quel momento persino nei suoi minimi particolari, fin dai giorni della sua giovinezza, in cui si era consacrato tutto alla causa di quell'amore temerario. Per lei si era fatto un nome e una fortuna, senza badare troppo ai modi. Per lei aveva curato la sua salute e il suo aspetto fisico, con un rigore che non sembrava molto maschile ad altri uomini del suo tempo, e aveva aspettato quel giorno come non sarebbe stato possibile aspettare nulla e nessuno in questo mondo, senza un istante di scoramento. La constatazione che la morte era infine intervenuta a suo favore gli dia del coraggio di cui aveva bisogno, per reiterare a Fermina Daza, nella sua prima notte da vedova, il giuramento della sua fedeltà eterna e il suo amore perenne. Ho scelto questo romanzo perché, al di là della storia che racconta, è un incoraggiamento a non rendersi, a essere determinati e tenaci quando si vuole raggiungere un obiettivo, e soprattutto a sapere aspettare senza scoraggiarsi, che non sempre è facile, e anche a sapersi godere quello che si trova lungo il percorso che facciamo per raggiungere il nostro obiettivo. E quindi è un libro ottimista, positivo e pieno di speranza, per me è importante perché nei momenti di sconforto mi capita di riprenderlo e di rileggere alcuni stralci che mi rallegrano, quindi ho scelto di condividerlo con voi. Grazie. Grazie.